Musica E ciao a tutti gli spaziali, qui in XPS si parla e bentornati sul mio canale Oggi siamo qui con il secondo episodio dello Slender di Harry Potter Ragazzi dobbiamo arrivare a minimo a 15 like per questo episodio Commentate qui sotto naturalmente se dovete farmi domani Iscrivetevi alla mia pagina instagram andrexspace E naturalmente lasciate like Soprattutto per il mio nuovo taglio di capelli Che veramente è chic Ma prima di iniziare dobbiamo prepararci Quindi Ok Però Manca qualcosa Ok Così si può iniziare Ok raga eccoci qui Eravamo arrivati qui all'entrata del parco Ok Ho alzato Il volume di gioco Perché Io lo sento benissimo Anzi anche troppo Però ho visto nel video che si Proprio si sentiva pochissimo Quindi l'ho alzato E inoltre ho passato un po' i gamma Così c'è Diciamo un po' più di oscurità Visto che adesso c'è la torcia Allora Infatti un po' si vede Così almeno è più bello il gioco Allora lì c'è la torre che in teoria dovremmo raggiungere Ma che c'è la neve Ma che è Allora questo che cos'è Parca Corri 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 Andiamo alla luce Buonasera Possiamo andare su? Ah no Follows Ah adesso è partito il gioco proprio Il gioco vero e proprio Delle pagine Bene Siamo a due Oh mio dio Oh mio dio Non so se l'avete visto Madonna sto sudando Veramente Ok Allora Siamo a due pagine E quindi Dovremmo trovarne 8 Io scappo Via 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 Corri 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 forest Corri Un'auto E vabbè quante pagine Quattro su otto Corri 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 E ora Due strade Devi andare di qua Andiamo a vedere cosa troviamo Buonasera È permesso È lui È lui Regà Corri 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 Via 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 Corri corri via Corri forest Vai via Scappiamo Ma scusate se sto Eh che Se sto zitto Ma sto proprio Veramente in tensione Via 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 Scappa Ma dove devo andare Non so dove devo andare Mi sto perdendo No 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 Ma mi sta dietro Cioè non Aspetta Cioè non mi posso fermare Come faccio Eccola 5 di 8 Usciamo Dov'è Dov'è Ok Ok Non vogliamo Non vuole che andiamo là Non ci andiamo Dove Oh mio dio È ovunque È ovunque Pedofilo Vai via E però decidi dove farmi andare Cioè Non qui Non di là E Vado a casa Uh C'è qualcosa Una pagina Una pagina Prendi Prendi Via Corri Dove No 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 Non ho fatto niente Non ho fatto niente Scusa Oddio 6 7 Me ne manca una No 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 Ma che Eccolo Ah Corri 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 No No mi sta proprio vicino No 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 Non so dove sto andando Forse all'ultima pagina Speriamo che l'ultima pagina Incruciamo raga No Me lo sono visto davanti Me lo sono visto davanti Me lo sono visto davanti E stavo per morire No 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 Madonna mia Scorri via Corri via Corri via No 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 Madonna mia Scorri via Corri via Ah ma qui siamo tornati al punto di partenza Si Allora ce n'è uno lì al Al cosa che non ho cercato bene A quel Tutti due container Cosa così Andiamo là Queste paginite so piccole Ma non si vedono bene Dove sta Lì Otti Corri Queste paginite so piccole Ma non si vedono bene Dove sta Lì Otti Corri 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 La pagina La pagina La pagina Ho trovato Ho trovato Ho trovato Tranquillo Oh mio dio Che sta Che sta succedendo Ma poi sono femmina Che è Ho appurato Che sono una femmina Dal suono fa È una femmina E Ok Ma buongiorno Fiorellino Ho paura Raga Controllatemi le spalle Mi raccomando Mi fido E dopo questo bruttissimo editing Con lo slender dietro di me So per annunciarvi Un trailer Ovvero Nel prossimo episodio Bene Devo attivare tutti i generatori No 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 Evidentemente stava dicendo Alla sua madre Che non voleva mangiare i broccoli No 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 Oddio 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 And blind UFO Che? Che ha detto? Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio C'è un tizio che mi rincorre C'è un tizio che mi rincorre C'è un tizio che mi rincorre No raga No Che vuol dire? Che vuol dire? Ok ragazzi Io credo Che per oggi Per questa puntata Sia Abbastanza Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Commentate qui sotto Con un hashtag Bimbo Non ha mangiato i broccoli Bimbo ha mangiato i broccoli Proprio così E E niente ragazzi Non so che dirvi Questo gioco mi sta veramente piacendo Iscrivetevi alla mia pagina Instagram E non ci pecchiamo In un prossimo video Ciao ragazzi